C'è il reparto di oncologia, il reparto di oncoematologia e poi la nostra divisione, la divisione di endocrinologia e l'unità di diabetologia, obesità e dietologia che insieme si occuperanno della gestione integrata che è questo quello che oggi è necessario del paziente. Quindi per rispondere a 360 gradi a quelle che sono le esigenze del paziente oncologico. Quindi non soltanto un problema di terapia primaria che ovviamente è indispensabile ma anche accogliere quelle che sono le altre aspettative, le altre necessità per prendersi cura della persona in toto.